Questa è la chiesa di Sant'Andrea che ha sostituito quella di San Rocco, anche questa distanza pochi centinaidi, diciamo, 200 metri circa dalla via di Bronti. La chiesa è stata costruita nel 1907, mi pare, dopo che erano un po' di anni che non aveva stato inaugurato nel 1907 sono portato a Deato Cartella Ferrari e è stata recentemente scoperta, per cui sono rimasti gli elementi decorativi che negli anni 70 erano stati coperti contro la pittura. Questo significa che comunque sia anche elementi praticamente moderni, architettonici, possono avervi valore. Tra l'altro non è raro che quando una chiesa è sostituita da un'altra qualche parte del marido sacro, perché in questo caso all'interno c'è la benissima Madonna Davide del Seicento, Madonna di San Rocco, quindi al terzo. Tra l'altro ci sono anche altre nuove regate dentro come un crocifisso su fondo dorato, come la frescatura dell'apside, fatta da Antonio Marioli della scuola di Beato Angelico, come un interessante pulpito in marmo che riecheggia il viciborio, che è il marmo e di cui due delle quattro colonne sono originali della chiesa di Santa Tella, quella che era posto all'opera. Quindi due colonne sono facciottesche. Le altre due sono state fatte quasi identiche dalla scuola di Beato Angelico, che conversamente la fa molto bene. Tanto è vero che da lontano è abbastanza difficile, e quindi ci c'è solo un po' d'occhio per descrivere quelle belle e quelle basse. Il Puglino ha quattro colonne, tutte del Beato Angelico, ma tutte ispirate, anche da quelle entite di Santa Tella. Per cui anche in una chiesa moderna, da una facciata che non è propriamente ispirante, magari si possono trovare delle cose belle, come dicevo prima e nascoste, questa è una grande chiesa di legato.